Diego Zuppel in ordine cronologico è l'ultimo acquisto della Virtus Francavilla, un attaccante alto, strutturato e forte fisicamente che ha avuto pure l'occasione di mettere minuti nelle gambe nel test contro la team Altamura, una trattativa lunga mesi considerato che il direttore sportivo Antonazzo era sulle sue tracce da almeno due sessioni di mercato. Come vi ho detto bene, da gennaio io dovevo venire qua già, poi non si è conclusa la trattativa e tutto quanto nell'ultima ora di mercato e comunque tutta l'estate mi sono stati dietro, mi sono stati appresso e sentire una società che ti vuole così tanto dà gusto e ti fa sentire importante e quindi ho deciso di venire qua. Le ambizioni e le aspettative sono di far bene quest'anno, spero di trovare continuità quest'anno anche perché negli anni passati ho fatto gavete e tutto quanto e quest'anno spero finalmente di trovare una bella continuità, il gruppo è solido, è bello, è forte, comunque siamo una bella squadra, tutti i compagni sono bravi, comunque mi hanno accolto subito molto bene, mi hanno fatto subito sentire parte integrante e tutte ottime sensazioni. Sulla stagione ormai alle porte poi il classe 2002 aggiunge Che cosa aggiunge Zuppel all'attacco del Francavila, oltre i centimetri alla forza fisica? Ma cosa aggiunge? Speriamo di aggiungere qualche gol in più, sicuramente, speriamo e poi niente, io ci metterò sempre tutto me stesso ogni volta che entrerò in campo, cercherò di contribuire al 100% a ogni ambizione della squadra.